Il Vescovo di Mazzara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, ha fatto visita a bordo della Mare Ionio, la nave della Mediterranea Saving Human, utilizzata per le missioni di soccorso ai migranti nel Mar Mediterraneo. La nave, battente bandiera italiana, si trova attualmente in sosta tecnica presso il porto di Trapani, da dove nei prossimi giorni ripartirà per un nuovo servizio nelle acque internazionali. Monsignor Mogavero è stato accompagnato a bordo dal capo missione Luca Cassarini e ha incontrato gli undici membri dell'equipaggio, tutti italiani, più un giovane greco. Il Vescovo ha avuto la possibilità di visitare tutti gli ambienti della nave, della plancia di comando e della zona allestita per l'accoglienza dei migranti. La visita oggi di Monsignor Mogavero è per noi molto importante perché testimonia il fatto che molti mondi si possono riunire dentro un'idea che è quella di salvare le vite, preservare le vite, salvarle, amarle, riuscire a vedere anche in un momento difficile come quello della pandemia del Covid, il fatto che ci sono persone che stanno ancora peggio di noi e che hanno bisogno di aiuto. E questa cosa è per noi importante, il fatto di avere il sostegno del Vescovo di Mazzara del Vallo che è una realtà che col mare ha molto a che fare, ce l'ha nel DNA il mare per i suoi cittadini, i suoi lavoratori del mare, per i pescatori, per la sua storia, per la sua tradizione. Il mare non è morte, il mare è una storia di aiuto gli uni con gli altri. La sosta di Mediterraneo, della nave Mare Ionio qui a Trabbani, ci ha dato l'opportunità di poter rendere una visita e conoscere di persona queste persone splendide, questi uomini, queste donne che hanno accettato la sfida di salvare in mare i naufraghi provenienti dalla sponda libica e della gente meravigliosa che ha una motivazione di una umanità che traspira da tutta la loro persona, dai loro volti, dalla loro voce, dal racconto delle loro esperienze.